su Pugliesi ci siamo conosci ma voglio deducarvi voglio ringraziare Pasquale e voglio ringraziare un applauso e voglio ringraziare un applauso e andiamo sempre a facciamare gli artisti Ciscio e Quara e parlaremo per voi in questo lavoro e 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